Noto, quarantenne si rivolta contro un pubblico ufficiale denunciato per resistenza. Nella giornata di ieri agente del commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 40 anni per reato di resistenza pubblico ufficiale, in specie il denunciato titolare di un esercizio commerciale nel centro nettino parcheggiava dei mezzi in un'aria vietata alla sosta. Un pubblico ufficiale della città barocca invitava il transgressore a spostare i mezzi e per documentare la violazione scattava delle foto. L'azione del pubblico ufficiale mandava incollere il quarantenne che usava violenza nei suoi confronti.